bella a tutti ragazzi ben ritornati al vostro giacar siamo tornati signori su un nuovo video molto molto speciale era da tanto ragazzi volevo farvelo ho acquistato questi prodotti veramente più di un mese e mezzo fa ragazzi quasi due mesi fa ci è voluto veramente tantissimo tempo per farmi arrivare e finalmente ragazzi sono arrivati di cosa sto parlando voglio far vedere in questo video tutta quanta la mia collezione di oggetti pupazzi appunto che riguardano fortnite ho speso bei soldini ragazzi per farmi fare queste cose perché sono dei prodotti fatti a mano sono prodotti comunque molto molto buoni resistenti di un'ottima qualità che appunto si fanno si fanno pagare abbastanza bene però ragazzi secondo me ne varrà veramente la pena come stai vedendo qua davanti a me ho un pacco che poi andrò adesso ad aprire e vi voglio far vedere altre cosette le prime cose che appunto vi voglio far vedere che sicuramente già avete intravisto in qualche video oppure ve l'ha fatto vedere anche già ciccio perché è un po tempo che già l'ho preso e questi mi sono arrivati praticamente quasi subito sono dei peluche che riguardano fortnite sono veramente molto belli ne ho presi di diverse dimensioni e sono veramente spettacolari signori se tanta volte volete altri video del genere che appunto vado a prendere degli oggetti mi faccio vedere delle mie collezioni fatelo sapere e vi chiedo di arrivare gentilmente in questo video a 20 mila mi piace so che sono tanti ragazzi ma ci è voluto tantissimo tempo per farmi arrivare e finalmente sono qui a casa mia alla partiamo subitissimo quelle prime due cose che voglio farvi vedere direi di partire subitissimo ragazzi con questo vedete qua signori un bellissimo lama un piccolo lama di fortnite vi faccio vedere vi sposto la telecamera e raga ma quanto cavolo è bello sto lama la andiamo ad aprire ovviamente questa qua è la versione quella piccolina cioè guardate che spettacolo ragazzi cioè non so se rendo non so se rendo ragazzi questo è il lama di fortnite la versione quella ovviamente piccolina vedete ragazzi quanto è bello cioè veramente poi il materiale è fatto veramente molto bene cioè molto morbido un ottimo materiale secondo me quindi veramente 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 e poi è simpaticissimo cioè raga è simpaticissimo guardate che figata cioè è questa la versione quella piccolina del lama poi ho preso un'altra versione che è questa qua ragazzi è leggermente più grande infatti devo un attimo allontanare un po anzi alzarvi un po la webcam guardate che figata quest'altro raga leggermente più grande dell'altro però comunque fa la sua porca figura quindi entrambi abbiamo lama piccolo e lama grande di fortnite ve li faccio vedere anche qua eccoli qua ragazzi ma quanto sono belli ma quanto cavolo sono belli in stile ma eccoli qua la versione come vedete un po più grande questa qua è quella un po più piccolina abbiamo mamma e figlia non lo so mettetela come vuoi fare comunque so veramente veramente molto molto belli i nostri due fantastici lama potete sì ok lama ok tutto perché lama si può prendere anche su amazon si può prendere su altri siti ma va bene ma io ragazzi non mi sono fermato lì mi sono fermato in questo pacco che qui dentro contiene tutti i miei soldi che ho speso e andiamo subito a vedere insieme vi faccio vedere pezzo per pezzo signori e signori il fucile da caccia di fortnite madonna ma quanto è bello raga io li sto vedendo con voi raga io li sto vedendo per la prima volta con voi non so come sono fatti quindi la prima volta questo è il fucile da caccia di fortnite eccolo qua guardate quanto cavolo è bello raga un mio dio ma è bellissimo poi sono fatti di ferro c'è veramente materiale molto 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 tosto raga ma che spettacolo è guardate raga ma quanto cavolo è bello sto cavolo di fucile da caccia no vabbè raga è bellissimo questo qua è fucile da caccia allora io vi appoggio qua ovviamente raga non poteva mancare anche il barrett il fucile da cecchino sempre di fortnite ma guardate questo pure raga ma quanto cavolo può essere bello sto fucile sniper mammadonna mia raga ma poi sono fatti benissimo senti saranno anche costati ragazzi perché saranno costati però sono fatti veramente veramente uno spettacolo cioè guardate che spettacolo raga no vabbè è bellissimo qui abbiamo i nostri due bei fucilossi continuiamo raga con il pompa del nonno mamma mia quanto sono belli no raga ve lo giuro io li sto vedendo qui con voi per la prima volta perché mi sono arrivato di poco fa che ho preso il pacco ma sono di uno spettacolo assurdo questo è il pompa del nonno cioè da sentisse male da sentisse male veramente mettiamo qua ovviamente non potevo non prendermi lui lo scaracca signori lo scaracca mamma io mi sento emozionatissimo raga ma sono di una bellezza incredibile guardate che spettacolo questo è lo scar raga ma sono fatti veramente bene 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 cioè io sono andato a comprare ad occhi chiusi perché ho preso questo sito non ci ho mai acquistato sopra ho visto che avevano disponibili questi modelli qua ho detto beh prendiamoli che poi so che è uscita anche altra robetta che se esce lì vi sniper io me lo devo comprare per forza perché è bellissimo e guardate qua ragazzi ma quanto sono fatti bene poi sono pesanti ma sono veramente ben fatti questo è lo scar veramente eccezionale andiamo avanti ragazzi altra cosetta molto figa guardate qua il piccone ho comprato anche il piccone di fortnite guardate davanti è bello ragazzi mamma mia cioè non solo le armi qua ho preso anche il piccone di uno spettacolo assurdo cioè mi piacciono veramente un bordello sono fatti veramente molto bene non poteva mancare il piccone ragazzi come faccio? come faccio? ma che poi sono grandi eh cioè non è che dici oh ma raga ma sono grandi veramente ovviamente anche ragazzi io sono fissato di quest'arma e molti di voi lo sanno di chi arma sto parlando la uso tantissimo perché è veramente molto forte la mitraietta silenziata guardate che spettacolo la mitraietta silenziata questo è il caricatore che adesso andiamo ad aprire cioè raga ma io queste cose mi sento male ma quanto sono belle ragazzi cioè ti danno anche il caricatore qui dentro la bustina ma di cosa stiamo parlando? ok caricatore mamma mia che bello raga mamma mia che bello cioè ma che cosa stiamo a parlare raga? mitraietta silenziata veramente la sgana flow questa qua raga la mitraietta verde la mitraietta blu di questa ragazzi ti fa un culo come una capanna ma io mi sento male ragazzi ma guardate che splendore guardate che splendore ma poi sono grandi sono grandi sentite che è ferro cioè è materiale molto buono raga materiale molto buono non poteva mancare lui il mitraione alla giorrambo ragazzi maronna cioè queste si montano hai detto cazzo la monto questa roba ma di che cosa stiamo parlando e qui ti danno anche il treppiedico no la devo mettere lo devo mettere non mi interessa lo devo mettere questa è con il treppiedi cioè ma quanto cavolo è british sto cacchio di coso raga madonna ma quanto può essere bello mannaggia io voglio qua sotto nel video voglio tutti i commenti da parte vostra raga mi devi dire la sincera verità di quanto sono belle queste armi cioè veramente raga cioè ma che devo dire ma ne potrebbero così però signori non è finita non è finita perché non poteva mancare lui l'arma più cagagazzite sempre secondo me è un'arma che comunque ti salva veramente tanto ma tanto il culo signori miei sto parlando proprio di lui del lanciamissili cioè guardate signore ladies and gentlemen che figata lanciamissili guarda che roba raga guarda che spettacolo lanciamissili veramente spettacularis proprio bello 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 ragazzi veramente molto molto bello cioè e poi qua dentro ragazzi ci stanno tutti quanti vedete ci stanno ovviamente tutti quanti i treppiedi perché questi qua ragazzi si possono appoggiare solo questi bitistalli li sono fatti da riapposta si pagano a parte e tu puoi appoggiare tutte le tue armi sopra questi bitistalli una collezione incredibile di ragazzi ma quanto è bella la mia collezione di fuori quanto è bella signori questa è la mia collezione ovviamente ci mancano i lama che poi vi faccio vedere ma se riesco vi faccio vedere subito beh eccoli raga non entreranno mai purtroppo insieme alle altre cose signori questo video è terminato io spero vi sia piaciuto vorrei sapere qui da parte vostra cosa ne pensate di questi di questa fantastica mia collezione quindi fatelo sapere qua sotto nei commenti questo video è terminato spero ovviamente vi sia piaciuto fatemi sapere appunto qua sotto voi quale arma e quale pezzo della collezione preferite tra tutti questi io sono innamorato di fucile alla caccia ragazzi io i sniper li amo proprio alla follia questo video è terminato passate qua a fia a me per vedere altri due video tante volte ancora non l'avete visti mi raccomando spoliciate arriviamo a 20.000 mi piace se tante volte sono usciti altri pezzi da collezione che posso andare a comprare li prenderò e vediamo quando arriveranno ragazzi spero molto presto perché qua ci abbiamo messo quasi due mesi iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti cliccate l'iconcina GKR mi raccomando una volta iscritti cliccate la campanella per non perdere nessun video noi ci vediamo in un prossimo apportamento qua da Gioca Regno e tutta la collezione di Fortnite è tutto ciao signori grazie a tutti grazie a tutti